Salve a tutti quanti, io sono Renes e benvenuti a quella che è l'analisi da patch 9.16 di Teamfight Tactics e ragazzi, mamma mia, sta per cambiare tutto di nuovo! No, serio, hanno cambiato così tante cose che il gioco va reimparato ancora una volta! Che ok, è divertente reimparare il gioco, però porca puttana, hanno cambiato veramente una marea di... Hanno cambiato pure oggetti, oh mio Dio, hanno cambiato pure degli oggetti, ho paura! Allora, partiamo dalle nuove origini che sono gli X-Tech. Gli X-Tech che cosa sono? Molto semplicemente sono una nuova origine che arrivano con nuovi quattro personaggi che sono Camille, Jace, V e Jinx, in ordine di costo. Gli X-Tech hanno una peculiarità, possono lanciare una bomba in un gruppo nemico e disabilita tutti gli oggetti in un raggio di uno o due esagoni per otto secondi attorno al bersaglio che ha colpito. Esempio, lancio in mezzo a un avversario, o mezzo a un attivo avversario, uno o due, dipendentemente sei, due o quattro X-Tech in campo. Non penso che la sinergia a quattro X-Tech verrà tanto abusata, già la singola sinergia a un X-Tech è bella forte. Vedremo, vedremo, perché sono molto differenti tra di loro. Camille è un Blademaster a costo 1, il danno della sua abilità è di 200, 325, 450. In pratica blocca un campione avversario e tutti i campioni che sono in gittata possono colpire e vanno a colpire quel campione che Camille ha ultato. È interessante, perché costringe tutti i quanti a colpire un singolo campione. Vedremo se ne vale la pena, sarò sincero, non mi sembra così forte, però vedremo. Jace, la sua abilità invece, semplicemente lancia via un'unità nemica con il suo Thundering Blow, si trasforma in forma cannone, ottiene un'attack speed aumentata e ottiene un'agittata. Quindi attacca dall'agittata. È uno shapeshifter, costa 2 gold. Il danno della sua abilità è di 200, 350, 500. Strano. Uno shapeshifter però a costo 2 ti permette di avere shapeshifter molto presto, perché hai Elise, Nidalee, che puoi potenziare velocemente. Se trovi anche Jace ne hai già 3. Non devi aspettare fino a Shyvana, che ha un costo 3, o Gnar, che ha un costo 4, o Swain, che ha un costo 5. Quindi carino, interessante, Jace, ma quello che secondo me è il più sbroccato di tutti. V, Brawler, costo 3, danno dell'abilità 250, 450, 650, punta al nemico più lontano e lo carica direttamente, colpendo e spingendo lateralmente, e danneggiando ogni singolo bersaglio per strada. Una volta che è arrivato in fondo, knock up al target e li danneggia. È così sbroccata come cosa! Perché danneggia ogni singolo personaggio. Mi sto immaginando V full AP che cosa sarebbe. Magari con tipo Chogat e i Sorcerer. Buon Dio! Oh mio Dio, domani lo provo! Domani sera lo provo, cazzo, questo sarà divertente. Jinx, anche lei è interessante, non ha un'abilità che costa mana, ma è una specie di passiva. In pratica, dopo aver ucciso il primo bersaglio, ottiene dell'attack speed bonus. Se ottiene una seconda uccisione, tira fuori il lanciamissili e comincia a lanciare razzi che fanno danni ad area. E sono danni che fanno danno magico, e quindi scala col potere magico questo di Jinx. È un po' strano. È un gunslinger, costa 4, e il danno nei missili è di 100, 225, 350 danni magici che copre 3 hex, praticamente copre 3 esagoni. È strano. È figo però perché vuol dire che è un gunslinger alternativo da late game, visto che i gunslinger in late game si appoggiano molto a Tristana con Blademaster, Red Buff e Ash come oggetti, e quindi ci sta. È molto molto carino, mi piace come cosa, come opzione. Sistemi, il matchmaking. Abbiamo migliorato il sistema di matchmaking all'interno della partita, in cui finì più volte di fila contro lo stesso tizio. Finalmente non finisco tre volte di fila contro il primo. Porca miseria. Adesso non dovrebbe mai succedere. Finisci una volta e poi basta. L'overtime mode, questo è carino. Non piacciono i pareggi da Riot. E quindi, dopo 30 secondi in battaglia, si attiva la modalità URF per 15 secondi. E viene dato 300% di attack speed, 200% di potere magico in più. Riduzione della durata dei controlli. Riduzione delle cure. Il 30% di affetto in più agli animali marittimi. Ok, Riot, va bene. Semplicemente vogliono evitare i pareggi. I pareggi sono abbastanza brutti. Più che altro perché ti possono rovinare una serie. Quando magari ti bastava un autoattacco in più per vincerlo in round. Per dire, eh. Giusto per fare un esempio. Cambiamenti dei ranked. Come inteso originariamente, tutti saranno demotati e perderanno, se perdi LP in ogni partita, a cui sei 0 LP. Ah, proprio così, istantaneo, senza passare nemmeno dal via. Minchia. Per i giocatori Grandmaster e Challenger, se sarai demotato, passerai da Master a direttamente Diamond 1. Questo è uguale a League of Legends, l'abbiamo detto nella patch di prima. Abbiamo fatto degli aggiustamenti ai guadagni e ai perditi di LP in alcuni estremi casi. Non dovreste percepire alcun cambiamento in merito. E i danni dei player? Ok. Le partite durano troppo più del voluto. Quindi fanno degli aggiustamenti. Ah, adesso il danno base scala con lo stage attuale, invece che con... Lo stage 1 e 2 prendi un danno, lo stage 3 e 4 prendi due danni, lo stage 5 prendi tre danni, lo stage 6 prendi quattro danni, lo stage 7 prendi cinque danni. Dovrebbe essere comunque meno che al lancio. Ok, questo è curioso, perché i danni al personaggio sono sempre difficili a bilanciare, secondo me. E già adesso erano ok, ma allungavano molto le partite. Questo è carino con il cambiamento. Tratti, brawler, nerfati. Chi l'avrebbe mai detto? Chissà come mai. Chogat che tanca e fa danno è forse un problema. Quindi nerfano i brawler, che poi l'ultimo livello neanche era accessibile fino ad ora, ma vabbè. Vita bonus 300, 600 e 1000 invece che 300, 700 e 1200. Ci sta. I brawler erano veramente rotti. Chogat e Rek'Sai in primis. Perché avevi Chogat, Rek'Sai, Cassadin che attivavano i Void e poi potevi fare i Sorcerer facilmente ed era molto ingestibile arrivati a certi punti di una partita. Quindi ci sta come nerf. Abbiamo cambiato il tratto di demoni. Ok. Gli attacchi base dei demoni hanno lo chance del 40% di bruciare 20 mana al proprio bersaglio e riottenere 15, 30, 45 mana. Quindi assorbi il mana e ne ottieni tu. Cioè praticamente lo neghi all'altro, togli 20 mana fisso, 40% fisso, ma dipendentemente dal numero dei demoni ottieni più mana quando vai a rubarlo. Che figo! Carino questo! Minchia, nelle team comp con brand questo è agghiacciante. Uh! Bello! Bello questo! Mi piace un casino. Adoro. Adoro tantissimo. Molto più gestibile. Prima era se tu giocavi demoni e andavi a negare tipo il meta, tipo tutti. Poi l'hanno nerfato, non venivano più giocati. Almeno adesso così è un sistema abbastanza più bilanciato. Sembrerebbe. Poi vedremo. Davvero baffano i ninja. Che Kennen è tipo il miglior pezzo da mid-game. Otteni più attack damage. E ability power. Io spero che quando vado al tier 3 leggo un nerf a Kennen perché sennò impazzisco. Questo è un buff a Kennen a caso e ad Akali. Zed e Shen fanno abbastanza schifo e quindi non è strano vedere dei buff per loro ma ad Akali e Kennen? I nobili stanno ancora underperformando li buffano ancora. Sì. Il problema dei nobili è uno. Basta un morello per negarli o un red buff e quindi è anche normale che vengono un attimo buffati. Sorcerer ridotto un pochino il loro scaling 5% in meno. Non è questo il nerf che li porta a non essere viable. 5% in meno di Skain sulla video. Non è questo. Wild 12% di attack speed per star Micchia! È tre patch che lo buffano sta cosa! Sono saliti da 7 a 8 da 8 a 10 da 10 a 12 Oh! Calma! Ok che i buff stanno i wild fanno veramente cacare però magari dargli delle stat base e non dare delle cioè Warwick fa schifo Warwick fa schifo come unità singola Nidalee fa schifo come unità singola cioè fermatevi un attimo e pensate davvero mi serviva quel campione? No! Solo Gnar è forte perché ha una ulti che vince da sola vabbè non commento E lì sbuffate ancora 50 HP in più e gli spiderling hanno un po' più velocità d'attacco non male come buff soprattutto ora che c'è un altro shapeshifter Kha'Zix danno da non isolato che scende Uuuuh questo è un bel nerf a Kha'Zix in early game Aia! Ci sta ci sta Kha'Zix con i buff del vuoto è veramente forte Morde Kaiser non lancia più la possibilità se non ci sono nemici in gittata ah non aveva anche lui questa cosa nel codice bello fantastico Nidalee adesso cura sempre due unità quando si trasforma ok ah era buggata e quindi si curava solo se stessa se era lei il personaggio più basso in salute del team capisco ridotta velocità d'attacco di Vayne ma ha aumentato il danno del porca troia Vayne al 3 è veramente forte adesso vuol dire che per fare il 100% della vita di un bersaglio perché vuol dire sono sono 18 autoattacchi e il 96% di vita se è al 3 minchia già al 2 ha lo stesso effetto di Vayne livello 3 porca vacca questo è un bel buff a Vayne carino ok vengo la rage blade torna viable finalmente campioni tier 2 broma ha bastato di 100 a capire la sua vita era potevi buttarlo in qualsiasi team comp da quanto era tankoso ci sta come nerf mana totale che è necessaria per castare la vita di sandra scende da 150 a 125 considerato che non è così forte ci sta lulu dà molta meno vita sull'abilità a livello 2 e 3 a livello 1 rimane invariata a livello 1 non è che cambiasse tanto il fatto è che a livello 2 e a livello 3 avevi più bersagli su cui metterlo e quindi nerfarlo così è il modo migliore per bilanciarlo ci sta ci sta zed 50 hp in più più velocità attacco e più danno sulla sua abilità questo è carino considerato il buff l'ability power che gli hanno dato ai ninja non male non male atrox atrox campioni costo 3 non lancia più la sua abilità se non ci sono nemici ingittata all'inizio dell'aggetto dell'abilità ok ci sta adesso da priorità al target Evelyn da priorità al target attuale con la sua abilità non lancia la sua abilità se non ci sono nemici ingittata ma perché questa cosa non è stata inclusa su ogni singolo campione dall'inizio aumentato l'attack damage di Katarina stesso discorso per lei serio che cazzo di senso ha sta roba cioè il fatto che non fosse incluso dall'inizio del gioco questo è gravissimo ma ha lo stesso discorso per Kennen e non è stato nerfato cosa riot il modo in cui salta è stato migliorato per allontanarsi dal suo versaglio what the fuck non hanno nerfato Kennen hanno baffato i ninja Kennen è tipo diventato Gesù Kennen è diventato l'unità più forte del gioco cioè già era forte prima adesso è veramente l'unità più forte del gioco vabbè vabbè a Kali le danno altro attack damage Brand danno dell'abilità sale di 50 65 100 e parte con 50 mana ma il costo in mana costa 25 in più quindi ti richiede 100 mana per farlo partire la prima volta e però ti costa poi 25 in più quando lo casti la seconda volta la Shojin è un must ora su Brand per il costo aumentato però porca miseria se arrivi al 2 fa veramente tanto danno per i rimbalzi che fa 450 danni minchia oh hanno nerfato Chogat almeno quello grazie hanno nerfato Chogat sono felice hanno nerfato Chogat letteralmente il meta era diventato chi riesce a lasciare Chogat al 2 vince soprattutto 6 sorcerer mamma mia meno male meno male Carthus campione costa 5 mana iniziale 40 di 125 oh molto allora il primo cast della Suprema è uguale il secondo cast della Suprema invece costa 40 di mana in più meno male questo è un bel modo per bilanciare adoro questa roba di TFT che puoi bilanciarli così facilmente che bello che bella cosa Kyle ha diminuita la velocità d'attacco questo è strano non era così opprimente Miss Fortune ha aumentato la vita di 50 e il costo in mana ha diminuito di 25 oh Miss Fortune sei tornata nelle mie grazie ciao bellissima ok e gli oggetti ah hanno reworkato totalmente Lush adesso ha il 33% di chance di prevenire i campioni versali dall'ottenere mana per 4 secondi quindi possono comunque utilizzare la loro abilità ok il silence è morto non esiste più capisco interessante l'infinity edge fa il 200% di danno critico invece che solo 150% di più questo è molto forte come buff ciao the raven ciao assassini ionic spark sceso di 25 adesso si sommano correttamente i danni la durata dello scudo del lock of the iron solari è stata aumentata di 2 secondi rimane un oggetto di merda oh il morello novi con il red buff ci mettono 10 secondi a fare tutto il loro danno come no male il morello novi con il fatto che ci mettesse così poco a farti tutto quel danno era veramente forte redenzione aumentata la cura da 1000 1500 hp la static diminuiti il numero di rimbalzi sono 3 rimbalzi e 100 danni a rimbalzo quindi scendi vai a 300 danni invece che 360 perché sono 4 bersagli che prendono 90 e 3 bersagli che prendono 100 perdi 60 danni a proc ci sta non è male come come nerf warmog adesso cura ok cura al massimo di 400 hp per tick ah semplicemente è meno efficace per i draghi quando ce l'hanno i draghi adesso è stato bug fixato in teoria in alcuni rari casi è ora possibile ottenere un item completo invece che i due componenti separati ah questo è tipo porca merda riot se ti capite un oggetto intero preferisco avere però in verità è costrittivo perché magari se ti dava due oggetti separati potevi buildare due oggetti diversi andando tipo al carosello o suoi cose successivi così invece sei costretto ad usare quell'oggetto ti devi adattare ok ok posso capirlo non mi piace comunque hanno fixato dei bug vabbè ma niente di troppo importante immagino sono sempre i soliti i buggini belli signori signori questo è quanto per la patch di tft a breve saremo live io kenren e spero anche moonboy per parlare delle patch sia di league of legends che di tft a dopo